Zuckerberg tempo fa aveva ipotizzato la possibilità, qualche anno prima, di creare un organo giornalistico super partes adibito a migliorare il newsfeed di Facebook, a cui, fortunatamente, non lo dico solo io, non è stato dato seguito. Perché il problema è che gli interessi speciali particolari degli stati e a loro volta dei partiti e delle imprese rendono il mondo dell'informazione estremamente passibile di soggettivismi e relativismi. Ed è un problema per tutti e per la democrazia. Tuttavia, recentemente, si sono attivate diverse istituzioni, associazioni, centri di ricerca che dedicano quotidianamente attenzione specifica al tema delle fake news e della propaganda e quindi possiamo dire che l'argomento da tempo è già sui tavoli di tutta la politica internazionale e magari la realizzazione di una sorta di organo super partes internazionale per la corretta informazione è complesso, ma in qualche modo anche auspicabile. Perché ad oggi il punto è che ogni piattaforma decide autonomamente quali strategie e quali tecniche usare per combattere le fake news. Ma il vero punto è, chi decide cosa sia una fake news? Su quelle scientifiche la verifica è più semplice, ma su quelle che hanno a che fare su questioni politiche, chi è che lo decide? La piattaforma stessa? A volte è un'azienda privata di un altro paese, un social network può influenzare facilmente le opinioni di un altro paese attraverso la sua piattaforma e sono stati messi in atto dalle piattaforme alcuni meccanismi per arginare il fenomeno, soprattutto sotto le azioni, ma non hanno avuto grandi risultati perché in fondo alla fine è tutto nelle mani di un'azienda privata che si occupa del bene economico, del social e questo invece non è bene per noi e non è bene per la democrazia. Questo è il grande punto. Insomma, l'informazione oggi è globale e la censura, tra virgolette, può avvenire con grande facilità con la scusa peraltro di combattere le fake news. E questo sicuramente non è la strada migliore da seguire. Dare in mano ad aziende private lo shatter dei controllori non aiuta molto. La vera strada dovrebbe essere quella di diffondere il più possibile cultura digitale, cioè la capacità di mettere in dubbio, di riconoscere. E una delle istituzioni pioniere della formazione, della corretta informazione, è la News Literacy Project, che è un'associazione americana che ha già promosso in passato i programmi didattici, eccetera, ha volto a insegnare i bambini delle primarie e soprattutto a distinguere i fatti dalla finzione. Qua in Inghilterra, mio figlio piccolo di nove anni, ha proprio fatto un piccolo corso all'interno della scuola su come distinguere le fake. Banalmente è un link che li porta a un prodotto falso o che li può mettere a rischio per vari motivi. E credo che solo insegnando alle nuove generazioni i criteri intellettuali per orientarsi in un mondo sempre più incentrato sull'informazione, solo così sapremo fronteggiare e arginare il fenomeno delle fake news e anche della propaganda e, perché no, della manipolazione delle masse.